Ma ciò che dice lei è una conseguenza, manca la causa originaria. Ora, secondo me la causa originaria sta in una data molto precisa della storia italiana, cioè l'8 settembre 1944. Nell'8 settembre 1944, che per tanti italiani è chiamata liberazione, in realtà in quel giorno lì l'Italia si arrende senza condizioni e è da quel momento lì, dal punto di vista giuridico, è sottoposta ad un trattato di pace che è segreto e che è sovraordinato alla nostra Costituzione. È un trattato dettagliatissimo che ha delle conseguenze fondamentali anche sulla nostra vita quotidiana. Per esempio non esiste la fuga dei cervelli, noi abbiamo l'obbligo giuridico di brevettare a Londra o a New York. Comunque questo trattato di pace è segreto, è vincolantissimo e perché io lo so? Lo so semplicemente perché ascoltando Radio Radicale, quando fa le dirette dal Parlamento, vi sono determinati momenti in cui i parlamentari italiani chiedono al Ministro competente nel question time, ma perché l'Italia fa una cosa così folle contro i propri interessi. Ogni tanto capita che il Ministro competente risponda dobbiamo farlo in base all'articolo tal dei tali del trattato di pace. L'onorevole che ha fatto la domanda chiede a questo punto vorrei conoscere in dettaglio il trattato di pace e gli viene risposto no, lei può conoscere solo il numero dell'articolo e il trattato è segreto e questo succede spesso. Ora, noi abbiamo, si dice, non so, 103 basi americane in Italia. figuriamoci cosa succede in Germania ed in Giappone, ma questo è fondamentale capirlo perché allora si viene a capire perché il Giappone si comporta così e soprattutto perché la signora Merkel all'interno dell'Europa si comporta così. Di conseguenza io vorrei sapere da lei cosa sa del trattato e cosa ci può dire in più di questo. In realtà il trattato è quello firmato a Parigi nel 1947, l'8 settembre del 1944 non è stato firmato alcun trattato, l'unico trattato con le clausole segrete è quello del 1947 firmato a Parigi, quello della resa senza condizioni. Esistono anche degli accordi che Casa Savoia aveva praticamente preparato nel 1942 e 1943, ma poi in realtà è stato siglato l'armistizio corto di Cassibile, poi l'armistizio lungo, il trattato di pace è quello del 1947, non esistono trattati di pace del 1944, non esistono, il 1947 ha delle clausole segrete e questo è quanto e determinano la mancanza di sovranità del nostro Paese e la subordinazione agli interessi anglo-americani da allora.